Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito al Teatro Verdi di Padova. Questa sera però il concerto dell'Orchestra di Padova e del Veneto è stato spostato all'auditorio Impollini. Ieri sera infatti all'interno del foyer del teatro si è verificato un crollo di calcinacci. Immediato l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che ha subito escluso che il Verdi abbia problemi statici, ma dopo il sopralluogo odierno dei tecnici comunali la biglietteria non è risultata al momento agibile, quindi gli spettatori non potrebbero accedere in sala. Il concerto dell'OPV in programma per questa sera è stato così spostato all'auditorio Impollini, mentre chi volesse acquistare i biglietti per lo spettacolo i fantasmi di Padova lo potrà fare solo online, visto che la biglietteria è rimasta chiusa. Accedere sarebbero stati dei pezzi di controsoffitto. Comune e Teatro Stabile del Veneto stanno già organizzando il restauro.